La facciata è completamente fatta di piperno, è in stile rinascimentale ed è caratterizzata da quelle piramidi che si chiamano pugne tagliate a forma di diamante. Ma se ci avviciniamo, c'è la particolarità di questa facciata. Allora, guardate, su ogni pugna ci sono dei segni. Il decumano superiore viene prolungato, vedete, fin sotto a quella pugna ed è stato soprannominato tutta la strada Spacca-Napoli e ciò che emerge è questa strada che si spacca. La famosa via San Gregorio-Armeno, quella strada di Vasco. Ci sono bottiglie che inventano esclusivamente una parte di aria, come se non è la strada di due sede. Ci sono anche una strada di portali e per un porto per portare fortuna deve vedere di essere inizio. Nella strada di Vasco, perché l'epoca di Levar, il russore è il colore della Victoria, deve terminare sto a Victoria, vita, ma soprattutto deve essere regalato. Nella Basilica di San Paolo di Martinole, che sono gestoressi della Tocco del Fiorizio. Sì! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti.